Oltre 10.000 persone hanno invaso il paesino tedesco di Luzerat che il governo vuole radere al suolo per ampliare una miniera di carbone. Fra queste c'era anche Greta Thunberg che è stata portata via con la forza dalla polizia assieme a altre migliaia di manifestanti. Parliamo anche del decreto carburanti che serve a poco, voluto dal governo, dei documenti riservati che stanno mettendo in meno imbarazzo non poco Joe Biden, degli uragani e alluvioni negli Stati Uniti, della nuova legge voluta sempre dallo stesso Biden che elimina l'obbligo di testare i medicinali sugli animali e infine del piano per la transizione ecologica approvato nella regione Lazio. Io sono Andrea D'Innocenti, oggi è il 16 gennaio 2023 e questo io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Vi ricordate quella storia del villaggio in Germania, Luzerat, che dovrebbe essere raso al suolo per far spazio all'allargamento di una miniera di carbone che negli ultimi giorni è diventato una sorta di epicentro delle proteste degli attivisti e attiviste climatici tedeschi e un po' di tutto il mondo? Se non ve lo ricordate andatevi a recuperare la puntata di numero e segno dello scorso mercoledì, 11 gennaio. Comunque detto in brevissimo, il governo tedesco, della cui maggioranza fra l'altro fanno parte anche i Verdi, ha deciso di autorizzare l'allargamento di una miniera di carbone a ovest della Germania, vicino al confine con Belgio e Paesi Bassi, e per farlo ha dato il via libera alla distruzione di un paesino praticamente disabitato che si chiama Luzerat. Questa decisione, giustificata con la crisi energetica e la paura che il gas non basti, sarebbe compensata dal fatto, ha detto il governo, che la società che gestisce la miniera sia impegnata a chiudere altri due impianti in anticipo rispetto a quello che era stato precedentemente concordato, ma ha fatto comunque infuriare un sacco di gente, fra cui soprattutto le grandi organizzazioni che si battono per il clima e la giustizia climatica, come Greenpeace, Fridays for Future e Extinction Rebellion, che hanno iniziato a organizzare pulmini da un po', insomma, varie parti della Germania, ma anche da fuori della Germania, per portare più persone possibili a Luzerat, per resistere pacificamente ai tentativi di sgombero della polizia. Più persone possibili, quante sono secondo voi? Che so, immaginate, magari qualche decina, qualche centinaio al massimo, anche perché uno può pensare chi è che prende un pulmino per andare d'inverno in un paesino sperduto in una delle zone più fredde della Germania per protestare contro una miniera. Ecco, sabato c'erano almeno 10.000 persone, perché 10.000 è il numero stimato dalla polizia di Aquisgrana, mentre secondo gli organizzatori erano 35.000 persone. Quindi, non lo so, a spanne saranno potuti essere probabilmente 15.000 o giù di lì, qualcosa del genere. Insomma, un sacco di gente. La polizia ha usato il pugno duro, i metodi duri per sgomberare queste persone e ancora sembra non esserci completamente riuscita, perché, insomma, ci sono almeno una ventina di persone che dovrebbero essere ancora rimaste nel paese. Ci sono video e immagini che circolano sul web di manifestanti presi a mangarellate e portati via con la forza o in barella, alberi tagliati vicino a quelli a cui si erano legati attivisti e attiviste, insomma, scene abbastanza pesanti. Comunque, fra i vari attivisti e attiviste c'era anche Greta Thunberg, venuta apposta per manifestare e la sua presenza e soprattutto il fatto che a un certo punto sia stata anche lei caricata dalla polizia e portata via con la forza, ha fatto un certo scalpore e ha fatto sì che anche i giornali abitualmente resti a dare risalto a notizie di questo genere ne abbiano parlato molto. Ieri, ad esempio, per diverse ore in apertura delle home page di Repubblica, del Corriere, insomma, di altri giornali molto letti, c'era un pezzo a cura della relazione esteri che parlava proprio di questo. Vi leggo un pezzetto di quello di Repubblica. Greta Thunberg è portata via con la forza dalla polizia mentre manifestava in Germania a Lutzerat. Le immagini video diffuse dai medi tedeschi mostrano la ventenne svedese seduta a terra e sollevata di peso da due poliziotti. Secondo una ricostruzione di Bild, Thunberg avrebbe ignorato gli ordini della polizia di abbandonare la sua posizione e avrebbe aspettato di essere portata via dagli agenti. Thunberg si era unita agli attivisti due giorni fa. Oggi, cioè ieri, aggiungo io, l'attivista svedese è ricomparsa nel luogo delle proteste senza aver preannunciato la sua presenza. È stata accompagnata da un gruppo di 70 attivisti e con questi ha occupato un campo sorvegliato da un reparto a cavallo della polizia tedesca. La maggior parte dell'accampamento è stata sgomberata dalla polizia oggi, sempre ieri quindi. Le operazioni sgombero continuano anche oggi, ha affermato il portavoce della polizia di Etmar Bruning, ma non sappiamo quante persone stiano ancora occupando il sito. In un primo momento sembrava che ce ne fossero rimaste solo 10, ma poi si è capito che c'era qualcuno in più. Gli attivisti stessi parlano di 20 persone anche all'interno del borgo. Siamo ancora inoltre impegnati a cercare di fruscire i due attivisti che si trovano nel tunnel, ha aggiunto il portavoce. Insomma, le proteste proseguono e la storia di Luzerat non è ancora finita. Credo che nel fatto che questa vicenda sia diventata così emblematica, fra l'altro, abbia giocato un ruolo che non so quantificare, ma non è indifferente, la potenza narrativa di questa storia, che sembra un po' uscita da un film. C'è un paesino con delle persone che si oppongono alla polizia, al governo, che vuole sgomberarlo per far spazio a una miniera di carbone. È tutto abbastanza assurdo, ma anche narrativamente molto potente. Non sto dicendo ovviamente che le persone vanno lì per manifestare perché si tratta di una bella storia e non gliene frega niente del clima, tutt'altro. Penso piuttosto che però una storia potente come questa sia un veicolo fortissimo per raccontare questioni come la crisi climatica, che hanno un po' bisogno di storie, perché non sono delle storie di per sé interessanti. Il clima è un argomento abbastanza noioso, se ci pensate. E storie come queste hanno un potenziale di coinvolgimento molto alto proprio perché sono delle belle storie e fanno breccia nell'animo dell'essere umano che è molto sensibile alla bellezza di una storia ben fatta. Torniamo a parlare di caro carburanti, perché c'è una novità abbastanza grossa. Sabato è stata approvata la legge salva carburanti. Venerdì abbiamo chiuso la settimana raccontando come il governo fosse andato in crisi proprio sul tema del caro prezzo di benzina e gasolio che con il nuovo anno e la fine della misura evoluta da Draghi hanno visto i loro prezzi aumentare di circa 20 centesimi al litro, più o meno. La cosa paradossale è che appunto la prima crisi politica del governo che ha iniziato a litigare vistosamente al suo interno è arrivata su una decisione anche abbastanza sensata se volete ovvero quella di lasciar scadere il decreto Draghi sui carburanti senza rinnovarlo. Il problema per la destra è che la questione dei carburanti, della lotta alle accise è sempre stato un cavallo di battaglia di Lega e Fratelli d'Italia e quindi le proteste non sono mancate. Così per correre ai ripari il governo ha messo su in fretta e furia durante la scorsa settimana un decreto che era nato come decreto antispeculazione perché se ricordate la prima spiegazione ai rincari data dal governo era che fosse colpa degli speculatori tesi poi abbastanza presto smentita ma poi trasformatosi in un generico decreto per il contrasto all'aumento dei prezzi dei carburanti. Ma quindi cosa prevede questo decreto alla fine? Ecco, nella sua versione definitiva, leggo dal post il decreto prevede che i distributori debbano esporre accanto al proprio prezzo di vendita del carburante quello della media regionale che sarà pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy questa parte è rimasta un po' come imprinting del motivo iniziale per cui era nato il decreto i contraventori a questa regola avranno sanzioni ai 500 e 6 mila euro sono stati rafforzati i poteri del garante per la sovverglianza dei prezzi che verrà affiancato da una commissione apposita che dovrà tenere sotto controllo gli aumenti anomali del prezzo dei carburanti inoltre si rinnova una misura del governo Draghi ovvero un bonus, una tantum di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici abbassando però la platea degli aventi diritto perché potrà chiederlo chi ha un ISEE inferiore ai 20 mila euro e non più inferiore ai 35 mila euro come era prima infine il governo ha approvato un meccanismo che dovrebbe imitare eccessivi aumenti dei prezzi del carburante attraverso la cosiddetta accisa mobile introdotta per la prima volta nel 2008 l'accisa mobile prevede che i maggiori introiti raccolti dallo Stato attraverso l'iva sulla benzina che è appunto una percentuale sul valore del prodotto quindi più aumenta il prezzo della benzina più aumentano gli introiti sull'iva siano investiti per abbassare le accise sul carburante questo però avviene soltanto se in media il prezzo del carburante supera una determinata soglia che il governo non ha ancora deciso e che comunicherà quindi nei prossimi giorni insomma è una misura che non avrà probabilmente un grosso impatto sui prezzi dei carburanti è comunque una mezza marcia indietro rispetto alla volontà iniziale del governo di non fare niente ma quindi si fa vedere che si sta facendo qualcosa senza spendere troppo e senza smentirsi troppo e al tempo stesso però cambiando relativamente poco nello stato delle cose questo può essere un po' un riassunto di questa nuova legge forse avrete sentito parlare del ritrovamento di documenti riservati in un ufficio di Joe Biden una storia che ricorda abbastanza da vicino pur con le dovute differenze quella che ha coinvolto Donald Trump e che sta mettendo molto in imbarazzo l'attuale presidente ecco i documenti ritrovati sono più di uno e gli ultimi sono stati ritrovati e consegnati dagli stessi avvocati di Biden si tratta di documenti che il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto in mano ai tempi in cui era il vice di Obama e che non avrebbe riconsegnato alla fine del suo mandato leggo da un altro articolo del post che gli avvocati del presidente americano Joe Biden hanno trovato nella sua residenza privata nello stato del Delaware nuovi documenti riservati non riconsegnati all'archivio nazionale al termine del mandato da vicepresidente un primo gruppo di documenti sempre risalenti all'epoca in cui era presidente Barack Obama era stato trovato a novembre in un ufficio di un suo centro studio a Washington e della sua esistenza si era saputo soltanto questa settimana quindi la scorsa settimana in realtà il secondo gruppo di documenti è stato ritrovato sia nel garage dell'abitazione privata di Joe Biden che nella sua libreria del secondo ritrovamento si è iniziato a parlare giovedì mattina e solo dopo varie ore la Casa Bianca ha dato conferma della sua esistenza sempre giovedì il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha annunciato di aver incaricato un consulente speciale per indagare sulle questioni legali relative ai ritrovamenti e Robert Hart, procuratore di lunga esperienza che aveva avuto incarichi durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump in entrambi i casi si tratta di documenti con il contrassegno che indica la loro riservatezza risalenti all'amministrazione Obama sarebbero quindi coperti dal vincolo di segretezza del governo degli Stati Uniti Biden non avrebbe potuto tenerli con sé in un ufficio privato dopo aver lasciato la carriera di vicepresidente al di là delle possibili ripercussioni legali la questione è già fonte di grande imbarazzo politico per l'attuale amministrazione perché considerate che Trump è oggetto di un'indagine simile e di una potenziale incriminazione penale per aver sottratto 20 scatoloni con circa 300 documenti riservati ritrovati dopo la perquisizione della sua villa in Florida e Biden aveva definito il comportamento del suo predecessore irresponsabile per non aver riconsegnato questi documenti e quindi insomma il fatto che sia venuta fuori una cosa simile che lo riguarda dal vicino è abbastanza imbarazzante per l'attuale presidente che si era detto sorpreso di questo ritrovamento riferito a sé stesso secondo quanto riportato dalla stampa il primo gruppo di documenti conterrebbe note dei servizi segreti e dossier su Ucraina, Iran e Regno Unito non si sa di preciso quanti siano i documenti in questione e si sa ancora meno dei secondi documenti di cui non si sa neanche gli argomenti diciamo quelli ritrovati più di recente Biden ha detto di collaborare pienamente col Dipartimento di Giustizia i suoi avvocati hanno specificato come i documenti siano stati restituiti spontaneamente agli archivi nazionali non appena ritrovati sottolineando le differenze con il caso che riguarda Trump quando invece la restituzione era stata al centro di una questione legale e era stata sbloccata solo dalla perquisizione alla villa esperti legali consulenti del Washington Post conclude l'articolo del Post sostengono che errori nella gestione di documenti riservati siano piuttosto comuni e che vengano normalmente trattati con sanzioni amministrative e non penali a meno che non sia provata la volontà di trafugare materiale sensibile come invece sembra essere nel caso di Trump ora la questione a prima vista mi sento di commentare o perlomeno da come viene presentata da questo articolo del Post sembra abbastanza diversa da quella in cui è incappato Trump che ha trafugato dei documenti quando se ne è andato volontariamente però ecco teniamo gli occhi aperti teniamo una luce puntata su questa storia perché non è detto che invece non ci riservi delle sorprese stiamo a vedere restiamo negli Stati Uniti per qualche notizia più veloce legata al meteo ma anche al clima e per esattezza alla crisi climatica la prima notizia è che in California stanno continuando da diversi giorni ormai grosse piogge con tanto di inondazioni e alluvioni leggo dall'articolo del Guardian che una serie di tempeste ha colpito lo stato dalla fine di dicembre causando almeno 19 morti venerdì 6.000 persone avevano ricevuto l'ordine di evacuazione e altre 20.000 famiglie erano senza corrente ha dichiarato Nancy Ward direttore dell'ufficio del governatore della California per i servizi di emergenza negli ultimi 18 giorni uno stato normalmente afflitto dalla siccità ha registrato una media di oltre 23 cm di precipitazione una quantità notevole che ha visto alcune località raggiungere la loro media annuale di precipitazioni e siamo solo al 16 gennaio vi ricordo ci sono stati almeno 19 recessi legati alla tempesta e la metà di questi hanno coinvolto automobilisti in alcune zone della California settentrionale le auto sono state sommerse gli alberi sradicati e i tetti delle case sono stati spazzati via le valutazioni dei danni già iniziata la valutazione dei danni già iniziata dovrebbe superare il miliardo di dollari intanto una tempesta sta causando invece venti forti e temporali in alcuni stati del sud degli Stati Uniti con grossi danni in diverse zone lo stato più calpito è l'Alabama al momento ci sono decine di migliaia di persone che sono rimaste senza elettricità sia in Georgia che in Alabama nella zona di Selma decine di case sono state distrutte o gravemente danneggiate da un tornado che si è spostato per oltre 30 km e il direttore dell'agenzia per le emergenze dell'Alabama Ernie Baggett ha detto all'Associated Press che sono morte almeno 9 persone e che almeno 12 persone ferite sono state portate in ospedale giovedì il servizio meteorologico nazionale statunitense ha segnalato la presenza di 33 diversi tornadi in contemporanea oltre ad Alabama e Georgia le allerte sono avute in Mississippi, Tennessee, Kentucky nel South Carolina e nel North Carolina così per ricordarci quali sono gli impatti effettivi della crisi climatica in corso sempre dagli Stati Uniti però arriva anche una notizia molto interessante e importante che riguarda la sperimentazione dei medicinali sugli animali ve la leggo nelle parole di Francesca Biagioli su Green Me è veramente un deciso cambio di rotta che potremmo definire una svolta storica quello avvenuto negli Stati Uniti che a fine dicembre hanno approvato una nuova legge questa stabilisce che non è più necessaria la sperimentazione su animali prima della messa in commercio di nuovi farmaci la nuova legge bipartisan FDA Modernization Act 2.0 2.0 proposta dal senatore statunitense Rand Paul di fatto è revoca l'obbligo di sperimentazione sugli animali prima dei test sull'uomo dunque la Food and Drug Administration non richiederà più test su animali come topi, scimmi o cani prima di approvare nuovi farmaci questo significa che la sperimentazione sugli animali sparirà completamente negli Stati Uniti? purtroppo no, continua l'articolo come specificano a nota dell'ufficio stampa del senatore Rand Paul la nuova legge non vieta completamente i test su animali ma consente agli sponsor dei farmaci di utilizzare metodi alternativi laddove siano adatti un topo o un roditore non sempre gestisce o elabora medicinali o sostanze chimiche nello stesso modo in cui fanno gli umani lo sviluppo di più sistemi in vitro basati su cellule umane tessuti umani e modelli umani potrebbe in alcuni casi essere più predittivo insomma si tratta di una legge per riassumere che elimina un obbligo che soprattutto nella medicina contemporanea appariva insensato non solo dal punto di vista etico ma anche e soprattutto da quello scientifico e che apre quindi uno spiraglio verso cambiamenti anche più significativi in un paese che fra l'altro ricordiamocelo è leader mondiale nella produzione di farmaci quindi non è una svolta da poco in chiusura vi do una notizia un po' al volo che è abbastanza approssimativa mi rendo conto perché fin qui non sono noti i dettagli particolari ma intanto ve la do e poi magari nei prossimi giorni andiamo ad approfondire sabato Roberta Lombardi assessore della transizione ecologica e digitale della regione Lazio ha annunciato l'approvazione del piano di transizione ecologica regionale l'ha fatto in un post su facebook in cui scrive il Lazio è la prima regione in Italia ad aver redatto e approvato il piano regionale di transizione ecologica un provvedimento da 5,9 miliardi di risorse per quattro ambiti di intervento che va a programmare la spesa pubblica per il raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità da qui ai prossimi anni e fino al 2050 un documento di circa 100 pagine che raccoglie gli input di circa 480 progetti presentati dai territori un comunicato successivo spiega un po' meglio il documento pur restando abbastanza sul vago e dice transizione energetica, transizione agricola, uso efficiente delle risorse e territorio sostenibile sono i quattro ambiti di intervento individuati dal piano a cui si aggiungono due chiavi abilitanti trasformazione culturale e trasformazione digitale quali settori trasversali e funzionali allo sviluppo dei primi quattro il Lazio oltre ad essere la prima e unica regione ad aver istituito un assessorato alla transizione ecologica e transizione digitale è la prima regione ad adottarsi di un piano di transizione ecologica regionale sottoposto in via preliminare alla prima assemblea civica del Lazio organizzata dall'ONG Rinascimento Green e altre associazioni ambientaliste e sigle della società civile le cui osservazioni sono state poi recepite nel provvedimento approvato in queste ore e con cui nei prossimi giorni verrà avviata una riflessione su un modello di transizione ecologica partecipata il piano di transizione ecologica delinea il contesto delle norme nazionali e internazionali sulla transizione ecologica coniugandolo con le esigenze e competenze presenti sui nostri territori censite grazie al bando di idee Lazio in Transizione che ha raccolto 479 proposte progettuali in 8 macro aree tematiche un provvedimento nato dal basso a livello locale per vincere una sfida globale ecco questa fine del comunicato stampa non so dirvi altro al momento ma mi sembra una notizia da tenere d'occhio e sicuramente approfondire quindi indagheremo detto ciò io direi che noi per oggi ci possiamo fermare qua io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Unmela segno sempre a partire dalle hotscone, YouTube, Spreaker, Spotify nonché sulla pagina rassegna stampa e telecambia.org state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto grazie a tutti